Affidamento, organizzazione, realizzazione, promozione e gestione del Carnavale di Sciacca 2019, il Comune ha scelto il raggruppamento temporaneo di imprese Carnel Melevare, GN Events 0925 e Dibbe, società che aveva presentato una delle due stanze pervenute nell'ambito dell'avviso pubblico recentemente pubblicato, l'altra era l'ATS, delle associazioni culturali protagoniste della stessa festa. Un affidamento che pare rispondo ad una serie di proposte migliorative che sono state presentate che hanno indotto l'amministrazione ad affidare il tutto a questo nuovo sodalizio e che sarà chiamato ad occuparsi sostanzialmente di tutto quello che ruoterà attorno alla manifestazione un po' sulla falsariga dell'operazione che sei anni fa vide protagoniste gli imprenditori napoletani. Obiettivo di questo raggruppamento affidatario sarà naturalmente quello di organizzare la festa nel rispetto dei parametri imposti dal Comune, ma nel tentativo naturalmente di ottenere tutti i ricavi necessari per un'operazione che è essenzialmente commerciale e imprenditoriale. Adesso la curiosità è tutta rivolta ai contenuti di queste proposte migliorative se ne saprà di più sicuramente nei prossimi giorni.